A carnevale ogni scherzo vale e stavolta lo scherzetto lo ha fatto il maltempo. Nelle marche nevicate fino a bassa quota e vento forte, specie nella zona del Pesarese, dove dalla scorsa notte sono stati necessari circa 40 interventi da parte dei vigili del fuoco. L'area collinare del sud della regione si è risvegliata invece sotto una leggera coltre bianca. Fiocchi sulle colline del Piceno, Fermano e Maceratese, sopra quota 400 metri. Tra questi i borghi di ripatranzone o fida con strade, auto e campagne imbiancate, come mostrano le suggestive immagini che arrivano da due telespettatrici di Vera TV, Anna-Lisa e Linda. Uno spettacolo della natura che fortunatamente ha apportato pochi disagi. Accumuli di neve più importanti invece ad Amandola, fino ad arrivare a 50-70 centimetri sull'Appennino. Una vera e propria manna dal cielo per le piste da sci di Monte Piselli, Sassotetto e Bolognola. Sulla base dei fenomeni previsti il dipartimento ha valutato anche per domani un'allerta gialla sulle Marche e arancione su parte dell'Abruzzo. Il ciclone arriva dalla Russia che dunque non porta solo venti di guerra. Il generale inverno in ritardo quest'anno ci accompagnerà con vento e gelo fino a lunedì, poi torneranno giornate soleggiate ma intanto questa sarà una boccata d'ossigeno per le campagne dopo mesi di siccità. Questo sabato comunque dovrebbe essere la giornata peggiore del weekend che vedrà anche piogge intense al centro-sud. Insomma uno scherzo bianco in attesa della rimonta dell'anticiclone con giorni più soleggiati ma ancora freddi.